Ciao e benvenuto a questo nuovo video che fa parte della playlist Smart Walking Mental dove analizziamo la seconda infografica del mese di aprile. La settimana scorsa abbiamo analizzato il percorso, quindi contrario rispetto a quelli che avevamo visto nel mese di gennaio, abbiamo visto dall'ufficio a casa, la volta scorsa abbiamo visto da casa all'ufficio nuove emozioni, nuove sensazioni, nuovi pensieri anche. Questa volta analizziamo con la seconda infografica meglio, più nel dettaglio, lo stare fisicamente in ufficio. Quindi la volta scorsa l'abbiamo un po' accennato, questa volta lo guardiamo proprio nello specifico. Ma chi sono io? Solo per non fartelo dimenticare. Sono Giulia Tamurello e sono una mental coach per smart woman, per coloro che con me nella mia community diventeranno delle smart woman. Donne che lavorano in smart working, donne professioniste, libere professioniste, autonome, indipendenti, nel senso professionale del termine, quindi che hanno attività, negozi in proprio, donne che comunque in ogni modo e in ogni caso vogliono crescere, vogliono cambiare, vogliono diventare delle nuove, nuove persone rispetto alla vecchia persona che erano prima del lockdown. Perché il lockdown, ricordatelo bene, è lo spartiacque per diventare davvero una nuova, nuova te. E lo puoi fare solo con me e diventando una smart woman. Ma andiamo pure a vedere qui questa nuova infografica che ho sullo schermo del mio pc. E ricordati, continua a vedere questo video fino alla fine, perché fino alla fine darò comunque, darò contenuti di valore. Andiamo a snocciolare, a vedere bene, bene tutto quello che è successo anche in questa fase positiva di ritorno in ufficio, perché comunque non dobbiamo dare mai niente per scontato, anche in questo caso. Dopo due anni di sossa forzata nel non tornare in ufficio, nel non tornare a fare le nostre attività, o semplicemente nel tornare a fare la nostra quotidianità, oggi più che mai bisogna fare bene, attenzione, e analizzare, continuare quindi insieme a me questo percorso. Quindi, la seconda infografica si intitola In Ufficio Con, proprio dentro l'ufficio. Immaginiamoci e ritorna alla mente al primo, al secondo giorno in cui sei stata in ufficio. Quindi, come è andata, come è stata questa giornata. I colleghi, analizziamo il primo pompo, il primo pompo, i colleghi. Sono cambiati i colleghi? Come interagisci nei loro confronti? Come ti poni nei loro confronti? Domanda anche questa non da poco. Perché? Perché in fondo tu hai lavorato con i tuoi colleghi, con le cuffie, e attraverso appunto un video. Quindi è cambiata completamente la modalità, anche se non in maniera totale, perché immagino che non sarai entrata tutti i giorni, ma uno, due, tre giorni, insomma, a seconda delle esigenze aziendali. Come hai trovato i colleghi? Li hai trovati cambiati? Con chi non andavi d'accordo? Adesso vai d'accordo. Come, ecco, per esempio, come ho già chiesto l'altra volta, ma mi piace questa cosa. Come è stato l'impatto con quei colleghi con cui, un po', così, no? Cioè, che se, insomma, ecco, c'erano, non c'erano, ti erano un po' indifferenti, diciamo così. E tu, come ti sei posta nei loro confronti? E loro come si sono posti nei tuoi, ovviamente. Analisi interessante. Si potrebbero scrivere pagine e pagine nel tuo quaderno. Ricordati di scrivere le risposte ad ogni domanda. Te lo ripeterò fino alla nausea, fino alla fine. Fai questo lavoro perché ti serve, ti serve. Perché ti serve? Beh, vai a rivederti gli altri video così rinfreschi la memoria. I colleghi abbiamo detto. Punto due. Con il tuo capo, col tuo datore di lavoro, col tuo responsabile, insomma, con chi sta, con chi tu, a cui tu devi dare conto. E' cambiato qualcosa con il tuo capo? Anche qui. Com'è il suo atteggiamento nei tuoi confronti? E com'è il tuo atteggiamento nei suoi confronti? Com'è andato? Anche qui il capo l'avrai sentito 50 milioni di volte, lo avrai visto. Avrete fatto delle call, avrete fatto dei corsi di formazione, avrete comunque lavorato insieme su delle pratiche, piuttosto che comunque avete fatto, diciamo, delle cose insieme. Ma, e ripeto, sempre con delle cuffiette per ascoltare, per parlare e con un video con cui, attraverso cui vedervi. Com'è stato l'impatto fisico proprio del momento in cui vi siete trovati? Mi siete abbracciati? Mi siete dati un bacino sulla guancia? Dai, qui lo puoi dire, lo puoi anche scrivere, tanto non... Magari me lo vuoi scrivere in privato? Va bene, va bene, dai. Aspetto una tua risposta, aspetto una tua risposta. Attenzione. E poi ancora, con te stessa ovviamente. Ecco, non ho inserito in realtà un'altra cosa, ma lo vediamo dopo. Ecco perché dovete vedere anche i video di approfondimento. Perché i video approfondiscono, ma non riprendono pedestremente solo quello che c'è scritto nell'infografica. C'è appunto un approfondimento, altri contenuti di valore, altre domande, quindi arricchimento del tuo percorso. Quindi abbiamo detto, atteggiamento con i colleghi, atteggiamento con il capo, atteggiamento con te stessa. Come stai in ufficio? Sei arrivata? Ti sei seduta? Ti sei... Hai aperto il tuo computer? Ti sei guardata intorno? La tua scrivania? Come sta? Com'è? I tuoi cassetti, le tue cose? Sapete che noi nei cassetti, nelle scrivanie, c'è una seconda casa, c'è un sacco di roba, c'è di tutto. Com'è stato stare in ufficio? Com'è stato sedersi alla tua postazione, nella tua scrivania, quindi sulla tua sedia e rivedere, non lo so, che cosa hai di fronte? Hai una finestra, hai un muro, hai un vaso di fiori, di piante, hai un calendario, hai l'orologio, hai il... come si chiama? Il condizionatore... che cos'hai davanti? C'è il condizionatore, che cos'hai davanti? Com'è stato sedersi di nuovo sul tuo posto di lavoro, proprio fisicamente? Cos'hai provato? Scrivi, scrivi tutto, scrivi tutto e me lo scrivo pure io, potremmo fare, se vorrai, un confronto tra le sensazioni che hai avuto. Quando ti sei seduto, ti sei seduta sulla sedia di casa tua, con il tuo computer, sul tavolo della cucina, del soggiorno, magari hai la fortuna di avere una piccola scrivania, non lo so, nella camera da letto e cominciare a lavorare. E la stessa cosa, quindi tra questo e la stessa sensazione, che cosa hai provato quando hai fatto esattamente la stessa cosa. Ma anziché essere a casa, farlo a casa, lo hai fatto in ufficio, seduta sulla tua sedia, davanti alla tua scrivania, con il tuo computer, ormai il portatile, casa, lavoro, quello ormai viaggia con te, ma magari hai ancora il fisso e soprattutto l'ambiente, l'ambiente che ti circonda. Quindi sarebbe interessante fare un confronto tra, diciamo, queste due stesse azioni, io sto scrivendo nel frattempo, queste due azioni identiche, ma fatti in tempi diversi e in ambienti ovviamente diversi. Quindi potremmo anche fare questa sorta di, magari, diretta, che ne so, vediamo, oppure potrei fare un video. Se tu mi scrivi, se mi scrivi, potrei fare un video che raccoglie un po' tutte le vostre risposte. Quindi obbligo, compito a casa, scrivi, scrivi, scrivi e fammi sapere com'è andata questa cosa. o mandami un vocale, il mio numero ce l'hai, la possibilità, la mail, se vuoi, giuliasmartcoach, chiocciolagmail.com dove puoi scrivere assolutamente quello che è successo, com'è stata questa cosa. Per cui, ecco, io l'ho scritto, eh? Allora, andiamo avanti! Quindi sei stata a lavorare, abbiamo parlato di questa importante sensazione della stessa azione fatta a casa e fatta sul posto di lavoro e poi cos'è successo? Un'altra cosa interessante in cui bisognerebbe poi fare un altro video, ma sicuramente lo faremo è arrivata l'ora hai svolto le tue ore comincia a guardare l'orologio comincia a chiudere vai in bagno, rispondi ancora a una chiamata magari ti fai ancora un giro per dire ma non ci posso credere, ma sono davvero in ufficio oggi oggi ci andrò anche domani, pensa un po' Com'è stato? Chiudere tutto, chiudere la porta tirarti dietro la porta, il portone dell'ufficio e uscire Ti è piaciuto anche dire ci vediamo domani ci vediamo ci vediamo domani e quanto ti è piaciuto tornare a casa? Quanto ti è piaciuto riassaporare questa sensazione di vado a casa o vado non lo so a fare la spesa comunque sono fuori addirittura per festeggiare magari con le tue colleghe hai detto ragazze li troviamo dieci minuti per berci una cosetta insieme ma veloce veloce quanto è stato bello questo momento e rispetto magari a quando sei a casa che sono sì l'ora è finita ma spetta che faccia ancora sta cosa spetta che faccia ancora quest'altra cosa spetta che c'è ancora quest'altra cosa che volevo chiudere e poi e poi finisci alle sei e mezza dalle sette e mezza magari che hai cominciato a lavorare tema dello straordinario molto importante attenzione quindi facciamo bene i conti su questa cosa con questa cosa ed è già in programma comunque un video dove dobbiamo un po' chiarirci alcune alcune cose alcuni diciamo fare alcune considerazioni in merito ovviamente ti chiedo come sempre di ti chiedo scusa di scrivere una parola chiave o più parole chiave associata ad ogni situazione a quella con i colleghi a quella con il capo a quella con te stessa a quella di questa chiusura di giornata questo rientro a casa che sembra banale ma non lo è assolutamente continua a scrivere e continua anche a commentare se lo ritieni opportuno di scrivermi anche in privato la tua esperienza molto molto importante ricordati che a me a me interessa a me interessa perché voglio cercare sto cercando di creare questa community di smart woman dove lo smart non è solo relegato al lavoro ma dove smart deve diventare una filosofia di vita e come lo è per me voglio che lo diventi anche per te che stai guardando questo video quindi come sempre se questo video ti è piaciuto io mi auguro davvero di sì perché ci sono comunque tanti spunti interessanti tante altre domande tante 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 tanta roba tanta roba ti chiedo di mettere un like di iscriverti al canale di cliccare sulla campanellina per ricevere tutte le notifiche e cosa più importante perché è più importante condividi questo video dobbiamo far sapere a quante più woman amiche tue colleghe tue persone che ritieni comunque che abbiano bisogno di questo video di sapere che c'è qualcuno che sta costruendo qualcosa di davvero fantastico e ne farai parte anche tu se vorrai ma come segui il percorso abbi fiducia in me e vedrai che faremo davvero grandi cose insieme costruiremo davvero una community forte quindi condividi questo video con tutte le tue amiche parenti colleghe quello che vuoi e con chi vuoi e se ti fa piacere salvalo pure perché è sempre comunque fa parte sempre di un percorso che stai facendo e che gli altri non stanno facendo perché nessuno non troverai sul web un percorso simile a questo perché dobbiamo anche usare un po' la nostra testolina e fare un po' la differenza nel mondo del web su chi dice delle cose e soprattutto su chi le fa quindi ti raccomando ti ringrazio davvero tanto 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 e ci vediamo nel prossimo video nel prossimo video il terzo video dove continuiamo e chiudiamo per questo mese il il nostro svisceramento del rapporto smart working e la nostra testolina quindi ti saluto ti ringrazio e ti ricordo che tu in realtà sei già una smart woman ma è ancora nascosta dobbiamo aiutarci a farlo tirare fuori a tirarlo fuori da questa tua anima smart ciao 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 ciao